60.000 persone da evacuare da Kherson in sei giorni. Questo è il piano delle truppe di Mosca nella regione ucraina occupata. Obiettivo è traghettarle al di là del fiume di Dnipro, lontane dalla linea del fronte, verso est, verso la Russia, come spiega Yevgeny. A destra c'è la coda per coloro che si dirigono a Oleschke e a sinistra la coda di quelli che vanno a Olapristan. Ci sono autobus in attesa che possono prendere fino a un migliaio di passeggeri. Dopo che la gente raggiunge l'altra sponda del di Dnipro, gli viene chiesto dove vuole andare. Crimea, Krasnodar o da qualche altra parte. E anche se si resta nei territori illegalmente annessi dalla Russia, si finisce per sottostare alla legge marziale proclamata da Putin, il che potrebbe voler dire arruolamento forzato nell'esercito russo anche per gli ucraini che vivono in quelle zone. Dove, specie a Kherson, la situazione si fa difficile, come ammette lo stesso Sergei Surovichin. Secondo analisti britannici, i contrattacchi ucraini stanno spingendo il comandante dell'esercito russo a valutare il retiro oltre il fiume di Dnipro. Intanto non si fermano gli attacchi dal cielo. Da stamattina un'allerta di raid aereo è stata dichiarata in tutta l'Ucraina, riporta l'Ucrainska Pravda. I primi bersagli rimangono le centrali elettriche per lasciare il paese al buio e al gelo, ma pure la capitale Kiev resta nel mirino, con la gente che si rassegna a passare lunghe ore nelle stazioni della metropolitana per trovare rifugio.